CGL, CISL e UIL hanno presentato oggi nella sede pesarese della CISL un documento propedeutico alle imminenti approvazioni dei bilanci di previsioni delle amministrazioni locali che tengano conto di linee di confronto per la contrattazione sociale in vista del 2024. L'impegno è quello di condividere con le amministrazioni misure utili allo sviluppo di politiche di welfare che contrastino disagio sociale e povertà emergenti. Un documento che accende un focus prioritario sulle politiche abitative per poi spaziare a quelle educative e occupazionali, temi da condividere che si allargano anche a disagio giovanile, violenze ed immigrazione. Il documento di linee guida è per il confronto con le amministrazioni comunali su bilanci di previsione perché per noi è importante condividere con le amministrazioni pubbliche e con tutti i cittadini questo percorso perché per noi mettere al centro il welfare, il lavoro, temi che sono a difesa dei fasci più debili che rappresentiamo nei bilanci di previsione per cui trovare risorse adeguate per dare risposta ai bisogni di questi cittadini per noi è particolarmente importante per cui cerchiamo appunto in questo documento che invieremo appunto a tutte le amministrazioni comunali per cercare di trovare un momento di condivisione di dare le risposte ai bisogni che in questo momento sono più urgenti per tutti i cittadini. Faccio un esempio a caso, le politiche abitative per noi sono particolarmente importanti, abbiamo situazioni di disagio abitativo e questo secondo noi è uno degli elementi più importanti da affrontare fin da subito, per cui ecco speriamo che appunto nella discussione dei bilanci di previsione possono essere trovate le risorse che diano risposte appunto a questi bisogni. Quest'anno abbiamo una difficoltà inedita che è data dal fatto che il fondo affitti non è stato finanziato dal livello nazionale, questo porta necessariamente i comuni a dover fare uno sforzo maggiore per poter dare una risposta a quelle persone che hanno redditi bassi e fanno fatica a pagare gli affitti per cui un sostegno anche di qualche centinaio di euro è importante per poter far quadrare i conti. Riteniamo che questa cosa deve essere assolutamente superata, rilanciata a livello nazionale e a livello regionale debba essere corretta con un investimento di risorse perché quelle appunto vanno alle fasce più basse della popolazione. Poi c'è una riflessione più complessiva su come si possano costruire delle politiche che tengano insieme tutte le situazioni di fragilità e di disagio che si vivono sui livelli territoriali. Il nostro documento è proprio incentrato sulla necessità di trovare dei momenti di condivisione con gli enti locali per capire quali sono le priorità di quei singoli comuni, di quelle singole popolazioni. Naturalmente il documento è unico ma quando poi noi andiamo a discutere nei vari comuni lì andiamo a verificare qual è la popolazione a cui dobbiamo dare maggiore attenzione partendo dal presupposto che purtroppo spesso le risorse sono poche e non sufficienti rispetto a una popolazione in disagio economico crescente.